Luisa Enrique e il ricordo figlia Xana, l'emozionante messaggio. È una giornata particolare per Luisa Enrique, che si prepara per la sfida tra Spagna e Germania che potrebbe già sancire il passaggio delle fure rosse agli ottavi di finale. Nella mente del tecnico spagnolo non c'è solo calcio, essendo oggi una data dolorosa da ricordare. Il 27 novembre è infatti il giorno del compleanno della figlia Xana, scomparsa tragicamente all'età di 9 anni a causa di un osteosarcoma. Luisa Enrique, quando Mourinho rispose a Van Gaal. È il nostro rapporto ora. Punto. La dedica speciale di Luisa Enrique per Xana lo stesso Luisa Enrique ha ricordato la data tramite un video sul suo profilo Instagram, oggi si gioca solo contro la Germania. Ma è un giorno speciale anche perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo. Una sfida dunque carica di emozioni per il tecnico, che avrà oggi una motivazione in più per vincere. Anche l'altra figlia di Luisa Enrique, Sira Martinez attuale fidanzata di Ferran Torres, ha ricordato il compleanno della sorella postandone alcune foto sui social. Virgola. . Grazie a tutti.